Incidenza dei positivi al 2,1% in Sicilia. Da oggi fino a domenica, da 18 anni in su, è possibile vaccinarsi senza prenotazione. Istituite tre zone rosse. Ci racconta tutto Giuliana Micichè. Sono 320 nuovi positivi al Covid in Sicilia su 14.908 tamponi processati, con una incidenza del 2,1%. La regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state due, per un totale di 5.890. Il numero degli attuali positivi è di 7.322, con una diminuzione di 384 casi rispetto al precedente report. I guariti sono 702. Negli ospedali ricoverati sono 404, 6 in meno, e quelli nelle treppe intensive sono 39, 3 in meno. Ecco la distribuzione dei nuovi casi tra le province. Palermo 68, Catania 66, Messina 21, Siracusa 28, Trapani 16, Ragusa 34, Agrigento 21, Caltanissetta 8 ed Enna 58. Nel frattempo, da oggi giovedì 10 giugno fino a domenica prossima, 13 giugno, è riproposta in Sicilia l'iniziativa Porte Aperte. I cittadini dai 18 anni in su, che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria negli hub vaccinali provinciali, anche senza prenotazione. I vaccini a disposizione sono AstraZeneca e Johnson & Johnson. Così ha disposto il presidente della regione, Nello Musumeci, per, afferma, accelerare ulteriormente la campagna di immunizzazione, che procede in maniera spedita in tutta l'isola e fa registrare un trend in costante crescita. Nel periodo compreso tra 1 e 6 giugno, infatti, sono state effettuate quasi 287 mila somministrazioni, superando ogni giorno il target assegnato alla Sicilia dalla struttura commissariale nazionale. Ed ancora Musumeci, con propria ordinanza, ha istituito tre nuove zone rosse in Sicilia, ad Aidone, in provincia di Enna, Francofonte, nel Siracusano, e Valedolmo, in provincia di Palermo. Le restrizioni adottate su richiesta dei sindaci interessati e in base alle relazioni delle aziende sanitarie locali saranno in vigore da domani, venerdì 11 giugno, fino a giovedì 17 giugno compreso. Con la stessa ordinanza, inoltre, è stata disposta la proroga della zona rossa fino al 17 giugno per Prizzi, in provincia di Palermo. Infine, a seguito di un accordo tra gli assessori alla salute, Ruggero Razza, e ai beni culturali, Alberto Samonà, tre musei in Sicilia saranno per una sera trasformati in hub vaccinali nell'ambito dell'iniziativa intitolata Vaccinarte, la salute incontra la cultura, finalizzate a incentivare l'adesione alla campagna anti-covid ed a promuovere la valorizzazione dell'arte e del patrimonio museale siciliano. I musei interessati sono il Mume Museo regionale di Messina, il Castellursino di Catania e il Museo Salinas di Palermo.